Sterbini, buono il suggerimento verso Tubani che prova ad arrivare in zona tiro, Tubani all'incrocio di poco fuori dallo specchio della porta, i filangeri, Ammassari, eccola la palla per Tubani, a terra il portiere Molon e allora Tubani realizza l'1-0 della Golbet, a sé perfetto quello con Ammassari ed 1-0 per i padroni di casa, centralmente per Placido, altra palla sempre per Tubani, questa volta può partire, c'è solo Cosimi contro Tubani, Tubani la conclusione e in 10 minuti la Golbet realizza il 2-0 e a realizzarlo c'è sempre Andrea Tubani il numero 7 in super forma questa sera.